Musica Allora, Kabur qui, che dice? Kabur presenta qua la Ferriam F i nuovi quadri di campo fotovoltaico di CAC, sono stati rinnovati nella gamma e anche nelle prestazioni. I nostri tre nuovi modelli di quadro fotovoltaico sono destinati a impianti domestici medio-piccoli industriali, sono in grado di gestire inverter a 1-2 MPPT e destinati a impianti a 600 o 1000 volt. Hanno un uso assolutamente versatile in quanto sono pronti all'installazione, è sufficiente fissarli a muro e abbiamo completato il lavoro di installazione del quadro. Un giudizio su questa fiera? Beh, diciamo come prima giornata l'afflusso è buono e speriamo per i prossimi giorni di continuare su questo ritmo. E invece ora abbiamo Marco Demetri, sempre di Kabur, che ci vuole parlare della stampante. È un nuovo progetto, nuova stampante, trasferimento termico, quindi per andare incontro alle richieste del mercato, una stampante in grado di siglare tutti i supporti per la siglatura di un quadro elettrico, le tessere da cavo per tubetto fino ad arrivare a tutto ciò che è esterno quadro, quindi targhe esterno quadro, targhe matricola e quant'altro. Stampante di nuovissima generazione. Stampante di nuovissima generazione.